Siamo qui con il dottor Mingione, dirigente scolastico dell'Istituto Eugenio Pantaleo. Preside, sono ormai due settimane che si è tornati in classe con la didattica in presenza, seppur parziale. Qual è il bilancio? Il bilancio è di tante difficoltà, come avevamo previsto, ma vorrei chiarire che si saprano tante discussioni tra i docenti, tra i genitori e anche con gli alunni. Credo che chi può mai affermare che il diritto alla salute o il diritto allo studio siano due diritti non importanti, sono due diritti fondamentali. Il problema è che ci siamo trovati in una situazione dove questi due diritti vengono addirittura messi in contrapposizione. È evidente che la didattica in presenza ha un altro valore rispetto a quella a distanza e ancora di più rispetto a quella mista, dove i docenti devono riuscire a gestire la classe in presenza e anche quella a distanza, quindi veramente molto complicato. Gli alunni stanno veramente dimostrandosi incomiabili e con grande senso di responsabilità, però le difficoltà ci sono, anche perché poi di giorno in giorno ovviamente i casi di contagio stanno aumentando e quindi ovviamente arrivano indirettamente anche alla scuola e sicuramente sono contagi esterni. Qual è la situazione Covid nel suo istituto? La situazione Covid nell'istituto è abbastanza contenuta, per il momento siamo a un solo caso e lo abbiamo gestito esattamente come prevedeva il protocollo. Dal punto di vista della messa in sicurezza, come si è organizzato l'istituto per prevenire appunto il contagio da Covid? E con quello che è l'applicazione rigorosa di quelle che sono le misure di prevenzione, quindi il distanziamento sia all'interno della classe con un lavoro fatto, ma questo fatto già dall'anno scorso di preparazione, di misurazione del distanziamento classe per classe con il conteggio e la calibratura delle persone, degli alunni in presenza e poi man mano ci siamo adeguati a tutte quelle che erano le direttive che arrivavano. In questi giorni si parla molto spesso di didattica a distanza su richiesta per lo studente cosiddetto fragile. Qual è la procedura all'interno del suo istituto per effettuare questa richiesta se possibile? La procedura è quella prevista. Purtroppo ci sono tanti genitori e anche alunni sollecitati dai figli che hanno pensato, come è successo in tante scuole, io so che magari quello poteva diventare un'opzione, cioè scegliere tra la didattica a distanza e la didattica in presenza. Noi stiamo facendo la didattica in presenza sempre nei parametri previsti dal DPCM tra il 50 e il 75, salvo che ci siano o situazioni di fragilità dovute all'alunno o ad un convivente. Questa è la normativa e questa stiamo cercando di applicare. Grazie. Grazie.